...taglia, ma tra animali diversi, con la loro corazza e con la coda letale. Per proteggere se stessi e i propri piccoli da qualunque predatore. ...punte, ma giovane. Non è una minaccia. Nonostante i denti appuntiti, ne esflora ogni angolo. Da sempre, il conflitto stimola l'evoluzione... ...E 보는 la frempia... ...ne la frempia.